Doc. È tornato. Guarda un po' chi si rivede. Sono tornato solo perché mi hanno implorato. Dicono che il nuovo primario sia un disastro. È vero, bisogna sempre ricordarti tutto. Tu stai meglio? Sì, sto imparando a pensare un pochino più a me e un po' meno ad Alba. Concludi la specializzazione anche per lei.